Mi aiuti un po' a comprendere perché voi ieri al Parlamento Europeo avete votato questo documento poi non passato che sostanzialmente impediva l'uso del MES come strumento anche per il rilancio dell'economia Contemporaneamente però in Italia due pesi massimi, il Ministro Gualtieri e il Commissario Europeo Gentiloni dicono il MES è importante, è utile per l'Italia, addirittura Gualtieri dice una cosa di più senza MES noi rischiamo di avere problemi di cassa Allora guardi, giusto per spiegare perché se no non rendiamo un buon servizio agli amici a casa quella di ieri del Parlamento Europeo era una risoluzione di indirizzo politico non era un testo normativo, punto numero uno punto numero due, noi abbiamo sempre detto una cosa, se si fosse davvero voluto superare lo strumento MES c'era un sistema facilissimo, il strumento MES è regolato da un trattato ed è regolato da alcuni regolamenti europei che vanno a integrare la disciplina del trattato bastava, come abbiamo fatto per tante altre cose, penso ad esempio al regolamento sui requisiti di capitale delle banche e presentare un veloce quick fix, lo chiamiamo così, emendamenti mirati chirurgici per andare a disattivare dal punto di vista normativo tutte le condizionalità di rientro che ancora permangono si poteva portarlo velocemente all'approvazione del Parlamento Europeo del Consiglio neanche in un paio di settimane avremmo risolto un bel pezzo del problema e anche sul trattato se c'era la volontà politica si poteva fare un veloce emendamento anche lì all'unanimità delle parti contraenti e portarlo in ratifica nei Parlamenti nazionali come in realtà con un voto si andrà a esprimere il passaggio di avallo dei Parlamenti nazionali sul recovery fund perché non si poteva fare sul MES, punto di domanda questo non è avvenuto, per noi permangono quindi sempre le solide criticità e correntemente al Parlamento Europeo in questa risoluzione di indirizzo se abbiamo detto quello per le sue problematiche intrinseche restano strumento ma non è bizzarro visto che è un documento di indirizzo politico poi arrivo da lei Mulema, visto che è un documento di indirizzo politico Castaldo non è bizzarro che voi votiate con le famiglie dei conservatori, dei sovranisti in Europa quando non più tardi di due giorni fa Di Maio rivendicava invece la scelta europeista dicendo abbiamo fatto bene fin da subito a votare Ursula von der Leyen oggi Gentiloni dice abbiamo eliminato dalle sue linee di credito del MES le vecchie condizionalità macroeconomiche e ora è chiaramente vantaggioso per un paese che ha i tassi di interesse come quelli italiani una parte sono ancora rimaste e io lo ribadisco se volete ve le cito le fonti normative così tutti gli amici a casa le possono andare a verificare articolo 14 regolamento 472 del 2013 articolo 13 del trattamento del MES no perché se no non rendiamo un buon servizio a chi ci segue da casa guardi molto velocemente ci sono due aspetti fondamentali il caporale ne ha toccato uno in modo molto pertinente il primo a chi vanno questi soldi? regioni perché la sanità è in mano regionale quindi quelle stesse regioni inefficienti nell'uso dei fondi strutturali europei inefficienti con ritardi cronici enormi sul piano sanitario andrebbero ad assorbire un po' come un Moloch a divorare queste risorse e non sappiamo neanche bene quella garanzia appunto che le impieghino rapidamente e velocemente in secondo luogo sono solo soldi che si possono utilizzare per spese sanitarie dirette o indirette legate al covid e perché spiego questo? perché se uno volesse ad esempio pagare con questi gli arretrati degli stipendi degli dipendenti nell'ambito sanitario piuttosto che i fornitori di altri beni e servizi per la sanità che non rientrano nel covid non potrebbe farlo questo sarebbe un uso che potrebbe essere tranquillamente censurabile però Castaldo quando Guattieri dice abbiamo un problema di cassa quella è un'iniezione di liquidità utilizzabile con le spese correnti rispondo su questo la risoluzione ce l'ha data la banca centrale europea con un piano di acquisti pandemico straordinario che si chiama PEP che è stato ulteriormente rafforzato portandola a oltre 1300 miliardi fino a giugno 2021 che riesce a calmerare a tenere bassi gli spread in un momento di grande difficoltà e insieme alla sospensione del fatto di stabilità ci consente di fare un po' più di debito dell'ordinario per gestire una situazione straordinaria emergenziale come stanno facendo gli altri paesi europei ma se è così conveniente ma perché non lo prende nessuno? non lo prende la Spagna non lo prende il Portogallo non lo prende la Grecia non l'ha preso nessun paese europeo